Buonasera da Monaco, è una gara classica tipo di Monaco nel senso che è dominato dalla qualifica, ieri abbiamo visto una qualifica che è cominciata con la pioggia, che ha creato qualche risultato diverso dall'umanità, salvo evidentemente la dominanza della Mercedes in qualifica, la terza pole position di filo, dietro la Red Bull, che è stato comunque anche l'andamento della gara. In partenza qualche squadra hanno pensato di fare due sosti, una strategia basata su due cambi gomme, una macchina su correnti Kimi Raikkon pensava sempre di fare una sosta solo, ma quando è uscita la Safety Car dopo poco più di 20 giri ha cambiato tutto, è diventata una gara di una sosta da questo momento. Poi più tardi abbiamo visto la bandiera rosso, hanno fermato la gara, in queste situazioni le macchine possono cambiare le gomme, quindi hanno cambiato tutte le squadre le gomme, non conto come un pit stop, quindi la gara l'abbiamo fatto con una sosta solo al box. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.